E' anche un pochettino sexy Ed eccoci ancora una volta le prese con le vacanze estive La meta? Corsica naturalmente E dopo varie ricerche abbiamo affittato un airbnb poco distante dalla spiaggia di Moriani A 40 km da Bastia Mai più pensavamo di trovare una così bella sistemazione dei proprietari veramente simpatici L'incontro ha venuto davanti a un bar per avere le chiavi dell'appartamento Ma in realtà abbiamo scoperto di abitare nella vecchia casa dei proprietari Dopo aver seguito lei fino a casa Faccio vedere il terrasso Ma che bella Una villetta indipendente grande con giardino, terrasso, barbecue E udite udite una piscina tutta per noi Eh si, ne valsa proprio la pena essere fuori paese O almeno così sembrava la prima volta come tragitto Poi in realtà eravamo veramente vicinissimi alla spiaggia al centro Ma allo stesso tempo immersi nel silenzio della natura Ma perché tornare a casa? Eh infatti siamo appena arrivati e ci gusteremo la settimana Eh certo, mica possiamo avere una settimana lì del tempo No, oggi qualche nuvola fa capolino E così abbiamo la scusa per andare a visitare un po' Quello che Moriani ci offre A partire dalla spiaggia ampia Sabbiosa, quasi deserta Un monumento che ricorda il fondatore del paese Bagnanti che prendono il sole E una cartina che indica le attrazioni Mmm, interessante Oltre alla Quedotto Romano Vedo delle cascate chiamate Cascade Luce Luline E la chiesa di San Nicola Bene, abbiamo scelto la meta Cascate e chiesa Eh, chi lo sa che non si facciano anche degli incontri strani in montagna Eh già, eh, perché davanti al mare e dietro alla montagna Oh, Roby per te Oh mamma Il Purcellu Dove è andato il Purcellu? Insomma, c'è tutto Non poteva essere una vacanza migliore Tu e Roby Io ho detto prima Ha smesso di piovere E potete vedere E' uscito un po' di sole In questo cielo Anche se in realtà tra un'oretta danno No pioggia Ma la cosa bella e interessante E' che come potete vedere Essendo a pochi livelli Eh, a pochi metri sul livello del mare In realtà c'è una vegetazione Che è pari alla nostra Sopra gli 800.000 metri Comunque ci sono dei castagni Ci sono le peci Tra l'altro castagni perché? Perché la castagna è uno dei prodotti tipici della casa I paesini arroccati un po' da tassi e in pietra Ti lasciano senza fiato E ti conducono in un'altra dimensione Si arriva alle cascate Che sono collegate a San Nicolau Da un ponte e una galleria Che sembra quasi magica E pare pure di intravedere dei mostri Grazie ai giochi di luce e dignità Che la percorrono Sono uno spettacolo della natura Di madre natura Che tra l'altro Ha voluto abbellirle con un favoloso arcobaleno Dopo un po' di pioggia Che è venuta a trovarci Che è venuta a trovarci Che è venuta a trovarci A ritorno Ci fermiamo e facciamo tappa In uno di quei luoghi Che abbiamo incontrato salendo La parrocchiale di San Nicolau Che con il suo campanile È stato dichiarato un monumento storico E ai suoi piedi Un cimitero Che all'apparenza sembra piccolo Ma dove riposano Praticamente tutti gli abitanti Della borgata Con tombe private E quasi monumentali Alternate a quelle più semplici Qua siamo alla chiesa Di San Nicolau di Moriani È uno dei grandi edifici barocchi Della Corsica La sua costruzione Iniziata nel 1686 Terminata nel 1717 Il campanile veniva utilizzato Come torre di guardia Per impedire L'arrivo di vasori eventuali E la curiosità di un cartello Che è attaccato al cancello Si ricorda di fare silenzio Per rispettare i defunti E che dopo le 18.30 A tuo rischio e pericolo Entri dentro Ma il cimitero Ha sempre un suo fascino E nonostante sia chiuso Decido di entrare In punta di piedi Cercando però Quasi di non disturbare Quella quieta e malinconia Che ha lei già all'interno Finalmente le previsioni per domani Sono belle Quindi apriamo la cartina Puntiamo il dito E scegliamo una nuova meta Scegliamo una nuova meta E scegliamo una nuova meta E scegliamo una nuova meta Grazie a tutti. Grazie a tutti.